Let's play Nello scorso episodio Chi è arrivato fino alla fine Ha visto che ho commesso un omicidio Però il cadavere è scomparso Quindi chi non l'ha visto Cazzi suoi Io non ho commesso una beniamata ceppa Quindi mi dispiace per te Ciao 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 Sono fatti tuoi insomma Ora ragazzi in questo episodio Dobbiamo assolutamente procurarci del cibo Alcuni di voi In particolare Luca Evolution Mi ha consigliato di spostarmi Sulla spiaggia per tutta una serie di motivi Lo ringrazio e farò esattamente come ha detto lui Non solo Ragazzi ho trovato anche un sito Una specie di wiki Dove si possono leggere un po' di cose Su questo gioco Si può imparare un po' di roba Ne abbiamo esattamente 10 Sì è il massimo che possiamo portare per il momento Abbiamo qualche molotov Quanti abbiamo di cloth? Ah ne abbiamo 13 buono E allora con 13 potremmo fare una cosa interessante Innanzitutto No non ti ho detto Ma perché equipaggi ste cose senza senso? Allora Ragazzi vedete Se combino una cosa di questo genere Creo una spear Praticamente Con questa Andiamo a caccia La spear sarebbe una lancia Ragazzi Si può anche mi pare tirare No Eh si Si spiaccica in faccia le persone Però ci è molto utile Se vogliamo andare a caccia Ad esempio di pesci O se vogliamo andare a caccia Di Ehm Come si chiamano Ah figo Ah no se ci fermiamo Fa sta roba Ah vediamo Vediamo Iiii Si apre che figo Io apro tutto così ora ragazzi No No rimettimi la lancia Poi la lancia la possiamo anche potenziare No ragazzi ora Apro tutto così Cioè che figo Ho trovato un'altra cosa da mangiare Vabbè Ehm Non perdiamoci incazzate Io devo trovare Io devo trovare assolutamente Allora un altro sticchetto Ok Siamo arrivati a 10 Si ne abbiamo 10 Ok ci abbiamo il massimo Io devo trovare assolutamente De coniglio qualcosa Perché Ehm Poi ci facciamo la cosa per Insomma Ehm Depositare Cioè per appendere la carne E farla affumicare E quindi potremmo Ehm Stare un po' meglio Iniziamo a fare qualcosa di decente Ma non solo Io vorrei anche Ehi Sei tu che ti muovi Eh Non mi fate Ehi A belli Minchia Ma Ma Aspetta Oh mio No Vabbè Emo dove è andata Emo dove è andata No ragazzi Ho perso Ho perso la mia Lancia Vabbè La rigrafto Non è un problema Però che figata Avete visto che ho fatto Mamma mia Che figo Cioè Praticamente Ho cliccato col destro Mi carica E mi mira tipo E poi col sinistro La lancio Cioè Ora Impalo tutti i nemici Se li trovo Speriamo di non trovarli Perché Comunque Rimango cacazzoso Però mi sono fatto Un po' più di coraggio Ragazzi C'è stato uno di voi Che addirittura Mi ha detto Dai se ti fa paura Non ci giocare In effetti C'hai ragione Però Sai Sai quando Ti dicono Di non fare una cosa E tu la vuoi fare È un po' così Allora Un'altra cosa Che ci potrebbe essere Molto utile È Se troviamo Delle tartarughe Perché così Ci facciamo un qualcosa Per l'acqua Visto che Se ci dobbiamo accampare In questa zona Da bere Non c'è una bene amata Ceppa Anzi La ceppa Sarebbe fin troppo Bevibile Ma Io non vedo tartarughe Perché si è mossa Questa cosa L'avete vista Volare anche voi Che cosa sei Un computer Eh vabbè Rompiamo tutto Rompiamo tutto Ma ragazzi Ma quanta roba Si trova sulla spiaggia In effetti C'hava ragione Luca E non solo Guarda Quante volte posso fare Ora Un casino Cioè non si capisce Un altro computer Vai Spacca il computer Con la lancia Che sfigata Che sfigata Sta cascata Ragazzi Si stiamo perdendo Un po' troppo tempo Incazzate Bravissimo Madonna ma si arrampica Questo È un pro Si io mo Dai Dai No Dai Dai che ti arrampichi Dai lo so che sei bravo Ma va a cagare Sei un pirla Cesso È tartaruga 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 Tartarughe Ma non si può mangiare La tartaruga Mori Mori Ragazzi Mi sa che mi sto facendo male io Ah no È morta E ma quella si può mangiare Che cos'è La testa Ma perché raccoglie le teste Degli animali Fresh generic meat Si Si può mangiare Certo che si può mangiare C'è pure questo Buono Allora ragazzi Io direi Di farci una bella scorta Di tartaruga Perché è sempre Ehi No che è sta cosa moscia Vediamo se la one shot Con la testa Sulla testa Wow Mamma mia Ragazzi Ma E vabbè il guscio Me l'ha buttato Ho capito Sì ma io che me ne faccio Di tutte ste teste Vabbè Vedrò nella wiki Io ho bisogno della carne Per ora Venite tartarugine Scusami Signora tartaruga Wow E mi perdoni Ma Devo mangiare Lo so Sto lasciando gusci ovunque Scusi Signora tartaruga Mi dà un attimo La sua carne Pam Madonna Sto diventato precisissimo Madonna Se vengono i cannibari Che cosa li combino Questa cosa Non avete idea Non avete proprio idea Proprio non avete idea Che cosa li combino Allora Carne Carne Ne abbiamo Ragazzi Allora non me ne sbatte Assolutamente niente Di andare a cercare Altra Cerchiamo solo un posto Dove accamparci Io direi Allora qui possono venire Degli indigeni Ci mettiamo Dove c'è anche la barca Nelle vicinanze Della barca Quindi Ci facciamo Un piccolo rifugio Qui Però voglio fare un rifugio Di quelli seri Quindi una cosa più grande E vediamo No Iiii Puzzacchio lo squalo Puzzacchio lo squalo Vediamo se Se lo massacro Che succede Non mi fa fare niente No Non fa bene Amata ceppa E Allora Questa dovrebbe essere Zona cannibali Però Io se mi L'avete Eccoli Eccoli Ragazzi Eccoli Eccoli Sono tanti Eh no Sono tanti Allora Non venite di qua Vero Minchia Quanti sono Ragazzi Quanti cazzo sono Quanti cazzo sono Vengono verso di me Io vengo nell'acqua Ciao 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 Io me ne scappo Me ne scappo Me ne scappo Guarda quanti Ciao Pirli Io sono nell'acqua Ciao Pirli Io sono Una tartaruga Non mi vedete Perché sono una tartaruga Però li andrei A ammazzare Io li andrei Ad ammazzare Cioè Sono tentato Sono tentato Di provare La mia nuova lancia Però se muoio Me la prendo A quel posto Vediamo Oh oh Non affogare Non affogare Bello Vabbè dai Lasciamoli in vita Ci saranno altre occasioni Per menare I cannibali Qua Comunque Questa mi sembra Una zona Di caccia Dei cannibali Quindi E' un po' Poco prudente Venire qua Non mi sembra Molto intelligente Perché Qua vicino Dovrebbero avere Anche il loro villaggio Vediamo Vediamo dove vanno Ah ecco Salgono di là Allora Se mi metto Tutto là Cioè Là dietro In teoria Non dovrebbero venire Al massimo verrà Quella stronza Che abbiamo ammazzato Che forse Stanno cercando Però io sto Morendo di fame Quindi facciamo una cosa Allora Facciamo una cosa Io ho bisogno anche Della pelle di coniglio E della pelle Di quell'altro imbecillo Perché Mi posso craftare Dei bag Delle cose Però vabbè Al momento Non li ho trovati Quindi Cazzo bene Va bene Allora facciamo così Tu magna Che stai crepando di fame Ok Ci abbiamo un po' Di roba da fare Quindi Ci mettiamo qui Però qui Non vediamo Se vengono Dobbiamo avere Un po' di visuale Ragazzi Se ci mettiamo Qui sotto Allora Ci mettiamo Qui sotto Sì Allora Il crafting Do sta Eccoti qua Allora il tutorial L'abbiamo fatto No mi serve No il campfire Mi serve Una piccola casetta Per cominciare Allora Vediamo Mettiamo In modo Che Loro Possano venire Di qua Quindi io ci metto La finestra Di qua Così se loro vengono Io me ne scappo Cioè Molto Molto Scialla Cioè proprio tranquillo Se io vedo Se io vedo che vengono Però possiamo metterci anche un pochino Più lontani Di qua Di qua Tipo io Me la scama Proprio brutto Ok Ok di qua Non dovrebbero poter venire No Allora Ora abbiamo bisogno Di log Però Prima di procedere Facciamo un'altra cosa Allora Allora Ci serve Un fuoco Quindi un fire pit Che lo mettiamo Qui Dietro Si Così copriamo Ok Questo dovremmo poter fare subito Abbastanza subito Ci mancano solo delle pietre Ma tanto Le troviamo in giro No Queste sono da lanciare Non va bene Ok Poi Ci serve un'altra cosa La cosa per l'acqua La cosa per l'acqua La cosa per l'acqua La cosa per l'acqua Eccola qua Water collector Però mettiamolo Cioè In un posto decente Perché se lo mettiamo Troppo troppo Vicino alla scogliera Magari Non raccoglie Una ben amata ceppa Quindi ti mettiamo Che ne so qua Ok E io qua dovrei avere Il necessario Per farti Benissimo Però un altro guscio Ce lo prendiamo Non si sa mai Visto che stanno qua E abbiamo bisogno Dei log Quindi Dovemmo solo stare attenti Però ai cannibali Che stanno nella zona Abbiamo bisogno Di quanti log 13 log E due rock Una rock Oh Mori Ma quanto si brut Oh E perché non lo fa Perché Perché Spiaccicalo Non lo spiaccica Vabbè Eeeh Un'altra rock Ci serve Piano piano Che cosa sei tu? La pietrolina da lanciare Non ci Non Ce ne facciamo niente Da pietrolina da lanciare In questa zona Ci dovrebbero essere Quei cazzare Ok L'altra pietra L'abbiamo presa Prendiamo l'altra Allora Allora in teoria Ragazzi Dovrebbero essere Andati via Spero Dai Abbattiamo sti tronchi Dai Ce ne servono solo 13 Significa 3 alberi 3 alberi E qualcosa Dai Butta giusto tronco Dai Che me sento figo Però Io Ok che ci stiamo stabilendo Sulla spiaggia Vabbè dai No Rimaniamo sulla spiaggia Poi dobbiamo andare però a caccia Nella Nella pianura ragazzi Possibilmente Lì Perché troviamo più facilmente Del cibo Soprattutto Che ne so Conigli Sta roba qua Allora Andiamo da qua Ok Nella nostra zona Spero solo di non trovare Nessuna festa Ma se no Se no li accetto Cioè Cazzo me frega Allora Comunque avete notato Che per via di qualche bug Quando usate gli oggetti E poi salvate Magari uscite dalla partita Poi spariscono Sono dei bug Ancora Che vabbè È normale Il gioco è ancora in alfa Voglio dire È normale che ci siano Perché equipaggi le pietre Allora Dai Ragazzi Mi sto iniziando a cacare in mano Perché sento i rumori E mi perdo i log Perché perdo i log Cioè Dai Mario Tanto è solo un gioco Non puoi morire davvero Ma che c'è un altro Che sta Sbattendo con me Mario Tranquillo Tanto non puoi morire davvero In questo gioco È solo un gioco Forza Oh E mettici un po' di energia Oh Ragazzi Sta arrivando notte Questi depositiamoli qua Perché se no questi Ogni volta Me li perdo Oh Non ho ripari ragazzi Cazzo 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 Non ho riparo Stanotte mi sa che Non faccio in tempo Allora Mi sa che mi devo costruire Un fuoco Perlomeno Non quello che abbiamo costruito Lì dietro Ma proprio un altro fuocherello Per illuminare Allora Facciamo così Ehm Metti questo Mettilo qui Perché devo vedere Se vengono quei cazzuti Ok Accendilo A posto Andiamo a prendere Gli ultimi tronchi Che ho lasciato Inizia a diventare Troppo tardi ragazzi Stanotte La passiamo come viene Non vede un cazzo Non vede un cazzo E questa non è una cosa buona Oh Via Via Accendi sto cazzo di Bic Tienilo acceso Per piacere Per piacere Tienilo acceso Allora io qua Praticamente non posso fare un cazzo Ehm Ah qua mancano due pietre ancora Ok Accendi sta cosa A posto Mettiamoci a Diamogli da mangiare Allora Equipaggia questa No Devi fare C A messa Ciao tartarughina Vedi che mi sto mangiando Una tua sorellina Allora in teoria ragazzi Così dovremmo essere Abbastanza Al sicuro In teoria Cioè non tantissimo Però Per cominciare Io passo la notte E a meno che non succeda qualcosa di strano Ci vediamo domani mattina Oh cazzo ragazzi Oh cazzo Ce ne ho tre davanti a me Porca paletta Tr Trota lurida Stavo andando qui in esplorazione della spiaggia Ne ho trovati tre davanti a me E mo che cazzo li racconta sti qua Piano B Anzi piano A Oh E arriva di verso di me Ehi 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 Uuu Uuu Mi circondano Aiuto 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 Non sanno nuotare Il cazzo Nuotano Cazzo Ma porca Aiuto Non ci vedo un cazzo Oh ma chi cazzo mi aveva detto che stavo sicuro nell'acqua Eh Porca paletta ragazzi Sto cagato in mano Ce ne ho quattro qua Oh 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 Madonna Madonna san Ma che cazzo so sti rumori Stanno affogando Ma magari muoiono Ah Stanno lì Sono lì No Sono troppi E poi sono quelli da battaglia Cioè sono quelli Rompicoglioni Madonna mia ragazzi Sì ma io mi sto congelando nell'acqua Ma no E vabbè Meglio congelato Che non morto da sti quattro invece Ma chi cazzo mi ha detto Nell'acqua Perché me ne vado sulla barca io Me ne vado sulla barca Andiamo Stanno là Ancora li vedo Li vedo Mi sa che qualcuno è affogato però eh Qualcuno deve essere affogato Ehi 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 State buoni Non fate troppo rumore State buoni Tu non affogare Nuota Nuota piccolo bastardo Madonna ragazzi Comunque ho trovato un candelotto di dinamite E potrebbe essere utile Però potevo usare un po' di Molotov Gli davo una bruciatina Sti quattro burini Non ho avuto ancora la prontezza ragazzi Mi faccio prendere ancora dal cacamento in mano Di quelli paurosi Ehi Non affogare E poi Devo dire Devo dire anche Che ho ucciso un paio di gabbiani Perché I gabbiani mi danno le piume Ma non solo Ho notato che mi danno anche dei pezzettini di carne Sono dei bocconcini Però diciamo che è meglio del niente Ragazzi sto qua Sta per morire Congelato comunque Io dovrei uscire un po' Proviamo Eccolo Eccoli State buoni Sono tanti Dove cazzo andate Cioè io lo so dove cazzo andate Addosso a me E muori Vaffanculo I pezzi di merda Muori Ehi Oh ma fanno le tattiche Il problema Il problema Oh 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 No 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 Ah vi state menando tra di voi Ma minchia Ragazzi quanti cazzo sono Quanti cazzo sono Quanti puttani sono Allora no Allora no no Devo andare nella barca ragazzi No 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 Guarda nella barca Non li posso combattere Ho sta accetta di merda Che non fa un cazzo Sono troppi Non ci vedo niente Non posso combatterli Vado nella barca Basta Sì devo pure trovare qualcosa da mangiare C'è ciò Ce l'ho Ce l'ho Il mio rifugio sarà pronto per la notte prossima Ragazzi Vado in barca Ci vediamo lì Però sono arrivato praticamente di mattina Cioè è l'alba E io sono in barca Vabbè Ormai ci sono Le esploriamo Vediamo quello che ci troviamo Un cartone Un cartone con un bambino mancante E che cazzo Un teschio Questo è utile Perché ci faccio le torce tipo Cioè no le torce Vabbè vero Insomma ci siamo capiti Oh da mangiare Molto utile Senti facciamoci le molotov Così lo posso prendere Quello là E non mi fai costruire? E ne ho forse troppi Ok Vabbè Lo lasciamo qui Qui che cosa c'è? Ah qua posso salvare Ma no Ma me lo potevate dire Che potevo dormire Ma no posso salvare Non dormire Vabbè Meglio di niente Apri sta porta Signora Apri la porta Ci sta nessuno Lì dentro Scusi Qua che cosa c'è? Un cavolo di niente Eh di qua Ah sa No scusi Non volevo Disturbarla Mi prendo solo un paio Di vestiti Bello Mi piace queste immagini Che è l'esorcista Cioè ci sta Che cos'è sta cosa? Ci sta una cosa strana Una cosa in carta pecorita Dammi i vestiti Una cosa in carta pecorita Qui Ciao signora Ma quanto sei brutta Con Un'immagine dell'esorcista Interessante Cioè Quattrocento baraccia Ottocento piedi Va bene Qua che cosa c'è? Ah una cassetta Cassetta player Oh E ora che ci faccio? Posso combinare anche con questa? No E che ci faccio col player? L L play Scusa suona Suona No suona Ho detto suona Salve a tutti Buona giornata Signori Salve Buongiorno Un po' di yoga mattutino Facciamo esercizi Acqua G Hop 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 Abbiamo passato una nottata di merda Abbiamo combattuto dei quattro imbecilli Ma noi ce ne fottiamo Hop 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 Ok Può anche bastare così No 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 Devi spegnere Lo devi spegnere Grazie Basta Ah lo posso pure depositare No no Spegnilo Ma cazzo Sì Vabbè mi fanno pure la discoteca Come cazzo si spegne sto coso Oh Basta Ok Allora È arrivato giorno Noi siamo riusciti a sopravvivere la notte Abbiamo trovato pure le audio cassette di Cristina D'Avena E la disco music anni 90 ragazzi E che dire Finisco il rifugio Spero di non fare altri incontri particolari E ci vediamo tra poco Oh puttana vacca No cazzo Chi sono mo questi Ho trovato quelli con le torce No 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 Io non ho fatto niente Io Vedilo È lì È lì Guardalo Che brutto Signore Io non ho fatto niente Io non voglio fare guerra con voi Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Zitti che non mi hanno visto Gli faccio l'attacco stealth No il cazzo Sono tantissimi Che cazzo di attacco stealth fai Sei un pirla Sei buono Non ti far venire Se sei stronzata in testa Piccione Vai a vedere dove cazzo stanno andando Dove stanno Dove sono Oh Che cavolo vuoi tu sul cellulare Eh Ragazzi non dovete scrivere su youtube Mentre sto registrando forest Ok Perché potrebbero venire Potrebbero venire i micoccoloni Potrebbero Bene Senti Io non voglio disturbarvi Signori Io mi acquatto qui Bello Buono Tranquillo Mi stanno a fare la trappola Che dite Vabbè io mi piglio Un tronchettino Uno Ne prendo uno solo Giuro Uno e altri due E basta Non ne piglio più Cioè Mi faccio la casa E poi me ne vado a fanculo Ragazzi Cioè tranquilli Poi mi faccio un culo così Se mi fate completare sta casa Pezzi di merda Mi stanno facendo cacare in mano Sti stronzi Eccoli Tu che cazzo vuoi Stronzo Sei da solo eh Vieni qua Sei da solo eh Da solo Non contate un cazzo Non contate Non sono proprio sicuro Che sia da solo però Non sono proprio sicurissimo Infatti Ecco già la seconda Che cavolo vuoi Stavo costruendo La mia zattera Vieni qua Vieni Dai regà Fatemi lavorare Ehi 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 State un po' buonini Ma che vi danno da mangiare No 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 ragazzi Dove mi stanno portando Scusate signori Ragazzi Ragazzi direi che Il primo Il secondo episodio è finito malino Mi hanno appeso Ad un soffitto E non vedo un cazzo Sono appeso Insieme a resti di cadaveri E ad altra gente Quindi ragazzi Se lo chiamo Non posso finire Cioè Ah Ma è un problema Come salvo Ragazzi Io stoppo qui il video Facciamo una cosa Se mi salva Riprenderò da qui Il terzo episodio Se non mi salva Riprenderò da dove stavo Perché Quanto viene fuori Quanto viene fuori lungo Sto video Se no Ok Non ve la pigliate a male Mi sono Già abbastanza caccato in mano In questo episodio E purtroppo Non mi è andata benissimo Quindi ci vediamo Nel prossimo video E Ciao a tutti